Il museo partecipativo oggi, questo è il tema che discutiamo, ed è un tema attualissimo, attualissimo perché esemplifica molto bene il ruolo del museo, il ruolo dei musei oggi nella società contemporanea. Oggi musei certo conservano capolavori, ma al contempo sono degli agenti di innovazione, di trasformazione, di inclusione delle comunità. Partecipazione vuol dire non solo ascoltare quello che i cittadini ci dicono, partecipazione vuol dire coinvolgere le cittadinanze nella vita del museo, nelle decisioni del museo. E mi fa piacere in questo senso anche ricordare che il museo è al servizio dei cittadini da tanti punti di vista, ma è anche un grande servizio per il loro benessere. Oggi entrare in un museo, fare un'esperienza culturale, entrare in contatto con i beni culturali è un momento per uscire da quell'insicurezza, da quella difficoltà della quotidianità che purtroppo due anni di Covid e anche la guerra, l'invasione russa dell'Ucraina ci ha portato. Bene, partecipare vuol dire stare meglio. esperienze culturali vogliono dire stare meglio. Questo è il grande dono che i musei fanno a tutti i cittadini e alle nostre comunità per trovare nuove identità e nuove sicurezze. Grazie. Grazie. Grazie.